La Toscana è in fermento per il Dante Dì, il 25 marzo, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, data che gli studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. Il Dante Dì è l'occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante iniziative. L'edizione 2021 è più significativa perché avviene il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta. Noi abbiamo in Dante un riferimento della vita culturale di Firenze di settecento anni fa, ma poi una guida per il senso di identità che l'Italia ha avuto, soprattutto attraverso la lingua. Dante è stato l'uomo che attraverso la Divina Commedia per primo, in una grande opera letteraria e poetica, è saputo incasellare quello che è la lingua del nostro paese, la lingua italiana. Tanti gli eventi e le opportunità che la Toscana ha preparato per celebrare al meglio Dante, come nel restauro del Cenotafio nella Basilica di Santa Croce, la call to action social con la lettura delle terzine della Divina Commedia con l'hashtag LeggiDante, il sito DanteOtosco700.it, l'app in Toscana con Dante, il documentario Dante Confidenzial con la voce narrante di Pier Francesco Di Liberto, noto come PIF, la mostra itinerante Dante 700 di Massimo Sestini, il portale Via di Dante e Wikipedro per Dante 700. Nel settecentesimo della morte del poeta, la Toscana ha in programma anche numerosi eventi estivi.